Siamo con Daniele Sansone degli A67 a Come suona il caos 2024. Qui Daniele, a casa vostra, come ti risuona il tuo caos? Bella donanda, come mi risuona il mio caos? Sono un burdello. Bene. Dove spesso non ci capisco nulla, è come direbbe un amico mio, chi non ci capisce è chi mi piace, e quindi è un burdello ci piace. Questa periferia che adesso diciamo agli occhi puntati, no? Qui probabilmente che c'è una contraddizione maggiore o c'è stata, c'è anche più sviluppo per la creatività e l'arte. Ma sai, laddove manca tutto, quasi, insomma, poi entra in gioco l'immaginazione, le cose te le devi inventare, le devi immaginare, e quando immagini crei, e quindi la creazione appartiene a quei luoghi dove spesso manca il necessario. Eventi come questo hanno una risonanza significativa, no? E poi uno spazio libero dove poter portare la propria testimonianza e dove poter far rete. Scampiè è diventata nel corso di questi anni anche, come dire, una grande mamma che abbraccia tante associazioni che lavorano su questo territorio. Sì, il quartiere è probabilmente uno dei quartieri, se non il quartiere o il più alto numero di associazioni d'Europa, e questo la dice lunga, perché gli abitanti hanno capito che l'unico modo per fare le cose era mettersi insieme, quindi partire dal basso. E questo parco è una prova evidente di tutto questo. C'è chi dipinge murales, tutto per il bene degli altri.